9 anni Ti scrive che lei e i suoi ex marito hanno divorzato L'ho letto, che buon piatto, mi dispiace E ti invita a passare il Natale insieme a lei e suo figlio di San Diego Molto chiarito Che fai? Ci vai? No, credo che omanco la situazione appartenga ai Natali del passato Ah, beh io ho l'impressione che Wendy ti consideri nel suo futuro Tu dici? No, 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 certo che no Non mi sudherai mai di sparire così prima Non vedo l'ora di stare un po' con tuo padre Sì, d'accordo, sì, sì, ti richiamo Ehi, G, ma cosa dobbiamo con il magnifico magno in cielo? Donny, grazie per il complimento È un regalo di prima Mentre il mio regalo per lei dovrebbe essere qui a momenti Suo padre è in città per le vacanze e ho accettato di fargli visitare l'NZX Ma il regalo? In realtà speravo che il direttore non mi utilizzasse Non vai d'accordo con il padre della tua ragazza? L'ultima volta che ho parlato con lui è stata quando gli ho chiesto la mano di prima E sono piato ridere Poi appianto per troppo ridere E poi non lo faccio a metto E poi non lo faccio a metto